Musica Amici di Tenedon ben ritrovati a questo nuovo appuntamento con diritto e rovescio. Siamo giunti alla tredicesima puntata del nostro diciassettesimo anno di trasmissioni. Oggi torniamo ad occuparci delle vicende politico e amministrative. A Roma si sta discutendo proprio in queste ore per cercare di trovare la quadra e formare finalmente un nuovo governo per il Paese, ma non si è ancora esaurita la fase dell'analisi del voto nelle realtà locali, perché ci sono sicuramente delle riflessioni importanti da fare, come per esempio per la città di Andria. E allora oggi abbiamo invitato quattro ospiti, due della maggioranza e due delle opposizioni, per cercare di capirne di più. E vado subito a salutare e ringraziare i miei ospiti, che sono Benedetto Miscioscia, in rappresentanza di Noi con Salvini. Grazie per essere con noi. Ringrazio anche Marco Di Vincenzo, consigliere comunale di Catuma 2015, consigliere comunale di Andria. Grazie anche a Michele Coratella, capogruppo del Movimento 5 Stelle di Andria. Grazie per essere con noi. E Giovanni Burchio, segretario politico del Partito Democratico di Andria, oltre che consigliere comunale della stessa città. E allora, prima di entrare nel vivo di questa trasmissione, è necessario fare un passo indietro. Cosa è successo alle ultime elezioni politiche, quelle del 4 marzo 2018? Un vero e proprio terremoto in città, perché è una città guidata da ormai una decina d'anni dal centro-destra, che si ritrova di colpo con una minoranza dei voti all'interno di Camera e Senato, dei voti dei cittadini andriesi per Camera e Senato. E allora, la prima domanda va inevitabilmente al Movimento 5 Stelle, che è uscito da vero trionfatore, non soltanto nell'Italia meridionale, ma in particolare una città come Andria, dove ha raggiunto il 52%, maggioranza assoluta nella città di Andria. Innanzitutto, come vi siete spiegati questo risultato? È soltanto il frutto del trend nazionale, è soltanto una voglia di cambiamento da parte dei cittadini, o è anche il frutto del lavoro nelle singole realtà, e quindi anche di Andria? Sì, grazie dottor Rossi. Chiaramente ringrazio tutti gli andriesi che hanno voluto votare il Movimento 5 Stelle. Come già lei ha detto, siamo arrivati a quasi il 52% alla Camera, quindi vuol dire che più di un andriese su due ha votato il Movimento 5 Stelle. Il dato sicuramente è superiore rispetto a quella che è la media, sia della provincia che degli altri comuni, che è il dato nazionale. Questo è evidente. Sicuramente c'è una grossissima voglia di cambiamento. Gli andriesi vogliono cambiare, lo hanno dimostrato, vogliono già cambiare gli italiani, ma gli andriesi ancora di più. Questo sicuramente grazie anche, devo dire, ai demeriti di questa amministrazione, che è, come dire, in carica da otto anni. Quindi questo lungo periodo di tempo sicuramente ha, come dire, disaffezionato gli andriesi, e quindi il segno evidente, quello che dico io, è il cambiamento. Cioè vogliamo cambiare. Si vuol dire che il potere logra chi ce l'ha. Sicuramente, questo è chiaro ed evidente, perché, voglio dire, Giorgino al secondo mandato abbiamo visto quello che sta accadendo. Ne parleremo sicuramente più avanti, ma considerate che non facciamo un Consiglio Comunale dal 4 dicembre. C'è stata commissione l'altro ieri, e ieri c'è stata una capigruppo alquanto agitata, ma sicuramente ne parleremo più avanti. Ma dei problemi dei cittadini, degli andriesi, non ne parla nessuno. Qui stiamo parlando di chi deve fare il Presidente del Consiglio, chi deve essere sostituito, chi, se fanno un rimpasto, sarà il nuovo assessore, chi va via. Stiamo parlando di quelli che sono i problemi interni alla maggioranza, quindi la politica che parla alla politica. Il risultato, come dire, ottimo, enorme, che abbiamo raggiunto ad Andrie, evidentemente, è anche frutto del lavoro che c'è stato. Ma questo vi responsabilizza inevitabilmente? Ebbè, è chiaro che ci responsabilizza, però ci dà consapevolezza. Cioè, siamo consapevoli che le persone guardano al Movimento 5 Stelle in maniera, come dire, interessata. Ripeto, più di uno su due ha votato il Movimento 5 Stelle. E quindi ci accingiamo, adesso, quando sarà il momento, a proporci come amministratori della città. A proporci. Poi saranno sempre gli andriesi a scegliere. Nei minuti immediatamente dopo il voto, quindi la settimana scorsa, si è parlato anche di un'ipotesi sfratto nei confronti dell'amministrazione. Voi chiedete con forza di andare quanto prima alle urne. Allora, io l'ho anche spiegato perché, non solo per il dato enorme dal punto di vista numerico, perché ad Andria, voglio dire, il 52% è maggioranza assoluta. Quindi, se lo sovrapponiamo, so che non è sovrapponibile a un voto alle amministrative, non si andrebbe neanche al ballottaggio. E' lo stesso risultato, per chiarire, che ha ottenuto Giorgino alle scorse amministrative. Alle ultime amministrative. Quindi, sicuramente, voglio dire, questo è il risultato. E' un risultato evidente. Ma, stavo dicendo, non mi è sfuggita la sua domanda. Parlavamo del fatto di andare subito alle urne. Ah, sì, sì. Ho detto, l'ho anche cercato di spiegarlo. Vogliamo che si vada alle urne perché c'è questa evidente volontà di cambiamento, ma soprattutto perché in questi ultimi tre anni, secondo mandato Giorgino, ci sono una serie di problemi irrisolti. Ed è evidente che siamo in una fase di stallo. Sembra, come ho già detto, di vivere in una palude, dove tutto è fermo. Prima siamo stati ad aspettare l'eventuale candidatura di Giorgino alla Camera o al Senato, insomma, al Parlamento. E quindi non abbiamo fatto nulla. Poi c'è stato il voto e ora stiamo aspettando. Ora aspettiamo di sapere se il Presidente del Consiglio sarà revocato oppure si dimette. Quindi, alla fine, è qui il motivo dei tanti voti. La gente è trascurata. Cioè, dei problemi di Andria, ce ne sono tantissimi, dai cantieri lasciati così e non saranno mai completati, ai problemi grossissimi che abbiamo di bilancio. Quindi, dei problemi degli andriesi, alla fine. Non interessa niente a nessuno. Quindi, diventa una politica autoreferenziale che pensa ai suoi problemi e non ai problemi dei cittadini. Di qui il voto al Movimento 5 Stelle, che invece è sempre stato vicino. Ma non in campagna elettorale, perché noi siamo sempre tra le persone. Abbiamo, sì, concludo. Io dico, abbiamo e stiamo supplendo a quella che era la funzione dei partiti. Ora, i partiti sono distanti dalle persone. Non si interessano assolutamente dei problemi dei cittadini. Noi, avvicinando e stando vicini ai cittadini, chiaramente raccogliamo i loro problemi, ma il consenso anche. Naturalmente. Quindi, però, ha più o meno raffigurato Nicola Giorgino come il novello Godot. Tutti aspettano che si prenda qualche decisione per la città di Andria. Prima di ascoltare le repliche della maggioranza, continuerei con l'analisi del voto. Perché anche si è fatto un gran parlare del voto del Partito Democratico. Partito Democratico che ad Andria ha superato quota 11%, quasi 7 mila voti al Senato e 6 mila alla Camera. Quindi siamo intorno all'11-12% tra i due rami del Parlamento. Che, tutto sommato, come dato cittadino, anche se al di sotto della media nazionale, però come dato cittadino è in ripresa rispetto al recente passato. Grazie. L'analisi del voto la stiamo facendo con appuntamenti continui. L'ultimo giorno, esattamente due giorni fa, è stato fatto anche nel coordinamento cittadino, un'assemblea largata che non vedevamo da molto tempo, sinceramente. C'è stata una folta partecipazione, molte nuove persone si sono affacciate. Io, naturalmente, come segretario cittadino sono contentissimo di questo, perché evidentemente la nuova azione messa in campo dalla segreteria cittadina, fatta da professionisti, da giovani ragazzi vogliosi di sovvertire il dire cittadino, di non fare nulla per la città, ecco, questo sta stimolando loro a fare bene. E soprattutto me, che mi sento fortemente responsabile di una guida che vorrei fosse più determinata rispetto al passato. Pur non essendoci neanche un candidato andriese. Sì, infatti volevo arrivare a questo. Volevo innanzitutto ringraziare la segreteria e tutti coloro che hanno lavorato in questa campagna elettorale, che, credetemi, la gente lo può testimoniare, abbiamo fatto porta a porta. Mettendoci io in primis la faccia e la gente è apprezzato, altrimenti avremmo assistito a una debacle fortissima sul territorio di Andria e del Partito Democratico. Perché, secondo me, quello che oggi dovevamo raccogliere, al di là dell'uragano elettorale, che ha visto un po' coinvolti tutte le forze politiche e noi ne prendiamo atto, e secondo me è giusta che ci sia avvenuta una situazione del genere. Perché la politica deve, in qualche modo, rendersi conto che non bisogna stare lontani dai cittadini e dai problemi dei cittadini. Quindi è d'accordo con quello che diceva. Sono d'accordissimo, sì, sono d'accordissimo. Non si può oggi contrastare i 5 Stelle, perché è sinonimo di scontentezza, è sinonimo di non appagamento di quello che dovrebbe essere la vera... ciò che la politica dovrebbe restituire al territorio in termini di servizi e in termini di assistenza. Ed è giusto che la politica faccia un mia colpa. È chiaro che in questo il Movimento 5 Stelle non si aspettava il 52%, perché, diciamoci veramente, io voglio bene Michele, voglio bene il parlamentare, diciamo, non ha fatto un'azione sul nostro territorio. Si vede oggi avere 29 mila voti. Io l'ho chiesto anche sui social. Se mi dite una cosa che ha fatto il parlamentare D'Ambrosio, io voto 5 Stelle. Non mi è arrivata la risposta. Ma questo, voglio dire, anche mia figlia di 7 anni, al suo posto avrebbe preso 29 mila voti, perché la gente va lì e mette la X sul Movimento 5 Stelle. Io forse... Poi ritorno al nostro discorso, più che all'analisi del voto. Forse direi che il voto a Salvini, secondo il mio parere, quello è un voto diretto, secondo il mio parere. Il voto ai 5 Stelle non è identificabile, perché la gente è arrabbiata. La gente è arrabbiata. Chi ha votato Salvini ha votato perché vede in Salvini, io no, vede in Salvini un probabile premier, una fissionomia dei discorsi da premier. Chi vota ai 5 Stelle non vede Di Maio premier. Vede un voto di protesta, e questo lo dice Luca, sul 52%, dato storico che io ricordo. Si intiene che il 52% possano essere semplicemente la protesta? No, totalmente no, ma la gran parte sì. Perché quando io mi interfaccio con la comunità, quando io vado a casa delle persone a chiedere il voto, e mi dicono, no, dottore, dobbiamo cambiare il sistema. Cioè, non dandomi la spiegazione, perché qui sembra quasi che sia passata la logica di dire rispetto a chi dà 80 euro al mese, piuttosto che 780 euro al mese, io preferisco chi mi dà 780 euro al mese. Ma questa, sappiamo tutti, che è una proposta improponibile. Cioè, non è possibile che questa proposta possa trovare riscontro dal punto di vista politico. Non abbiamo i soldi, perché quando il politico fa delle proposte, poi deve fare i conti con la burocrazia, con il burocrate. Chi sta lì ad aspettare il politico che ha vinto, va dal burocrate e dice, bene, lo sa che io oggi sono il nuovo premier? Benissimo, complimenti e auguri. Mi dica, dobbiamo dare 780 euro ai piccoli nuclei familiari. Sì, guarda il computer, il burocrate, e dice, ok, da dove prendiamo i soldi? Bene, questo pseudo, diciamo, ministro delle economie e delle finanze del Movimento 5 Stelle, leggevo l'altro giorno, diceva, sa come si fa a prendere questi soldi? Come? Si fa che bisogna, innanzitutto, istituire tutti questi uffici di collocamento, fare iscrivere tutta la gente disoccupata, in modo che noi abbiamo una bella idea di quanta disoccupazione c'è in Italia, dopodiché ci presentiamo con questo grosso pacchetto all'Unione Europea e diciamo, siccome noi dobbiamo soddisfare le esigenze di tutta questa gente, possiamo sforare il 3%, potete aiutarci a darci soldi? E che soluzione è? È come se io facessi dei debiti con i miei fornitori, poi vado alla banca e dico, considerato che io ho 100.000 euro di debiti, mi volete aiutare a pagare i debiti? Non è così, non è questa la soluzione. Ora, no, ci tengo a dire una cosa, tornando ad Andrea, io dico che Andrea ha fatto un bellissimo risultato, nella sconfitta, attenzione, non voglio passare per il vincitore, perché secondo me è frutto del nuovo lavoro che in qualche modo ha tutito non il cattivo lavoro di prima, il non buon lavoro di prima, ma è soprattutto il fatto che Andrea non aveva una candidatura significativa. La candidatura che mi era stata proposta dalla Regione Puglia e dai vertici, che avevo accettato con favore come terzo al Senato, poi in qualche modo mi hanno invitato a fare un gioco di squadra e quindi a inserire altre persone piuttosto che me, secondo me sbagliando, perché Andrea, una popolazione di 100.000 abitanti, non può non essere rappresentata. Quindi con una figura non significativa, rispetto a Barletta che aveva due campioni in campo, rispetto a Trani che ne aveva addirittura tre dell'amministrazione in pectore, tutti e tre presenti sul territorio, e che hanno preso Trani 4.350 voti, Barletta 9.000 voti, io penso che i 7.000 voti di Andrea sia un gran bel risultato. Sul quale però, senza illusioni alcune, bisogna lavorare in maniera dura, lo si diceva all'interno del coordinamento, la nostra campagna elettorale non è finita. Io incontrerò questi giorni il quartiere San Valentino, andrò a discutere con la gente, perché è così che il Partito Democratico può ritornare a fare voce sul territorio. Altrimenti il Partito Democratico è destinato, come altri partiti, a autodistruggersi, perché la comunità vuole cominciare a vedere i fatti. Le fantasie ti distruggono nel tempo. Siamo d'accordissimo. Invece, dicevamo, noi con Salvini, quindi la Lega, ha ottenuto ad Andrea un risultato significativo, anche al di sopra della media del sud Italia, ma comunque un risultato importante, perché siamo intorno al 6% Camera e 8% il Senato, 7% il Senato. Questo significa che c'è stato un riconoscimento del lavoro svolto. Poi riplichiamo ovviamente. No, l'analisi del voto è un'analisi che va fatta contestualizzando i momenti, chiaramente verificando quelle che sono state poi le situazioni che territorialmente hanno determinato anche le valutazioni sulle candidature e il peso che magari questo ha inciso su una maggiore o minore propensione da parte anche del cittadino a dare il proprio apporto anche in termini di azione, anche di sollecitazione. Allora, io credo che l'analisi va fatta guardando e contestualizzando un po' tutte le questioni. E' certo anche il fatto che magari una mancata rappresentanza di un elemento significativo, magari importante di un territorio, abbia potuto anche incidere su quella che può essere una maggiore o minore propensione a votare una coalizione o una lista. E credo che questo sia un dato inconfutabile. Ci sta dicendo se ci fosse stato un candidato Andriese. Ma io credo, guardi, partiamo dal dato complessivo. La Lega ha fatto un buon risultato. Io ero praticamente all'interno di questo movimento, quindi ero candidato, seppur in posizione diciamo non utile o perlomeno in una posizione che era quella di qua, parto all'interno di Puglia 1. Io credo che comunque l'elemento che può fare sempre la differenza è anche chi si propone e perché viene proposto. Però complessivamente non è che sia stato proprio una sconfitta. Il problema è valutare, contestualizzare quello che è stato il momento storico che ha caratterizzato un po' tutti i territori che sono stati chiamati a dare una loro... Cioè lei sta dicendo che il voto del Movimento 5 Stelle andrebbe riportato al... a quello che è un po' il panorama generale. Perché altrimenti, al di là dell'intervento che si dice ma in questo momento ad Andia il 5 Stelle hanno avuto un ruolo... Sì, ma è un dato che poi se lo andiamo anche a paragonare con altri dati di altri comuni vediamo anche Barletta stesso. Cioè voglio dire, ci sono delle situazioni che vanno, ripeto, valutate per quelle che sono le... come dire, in momenti storici. È la stessa cosa quando dice ma a questo momento la gente dice no, ma in questo momento anche la gente esprime la volontà di dire che questa amministrazione o il sindaco debba dimettersi o andare via. Beh, io direi che se dovessimo fare un'analisi di questo genere dovremmo dire, allora prendiamo Canosa per dire dove i 5 Stelle non hanno raggiunto il risultato, anzi il centrodestra ha preso più voti, dovremmo dire adesso al sindaco Morra dimettiti perché magari non sei stato riconfermato, quella che può essere diciamo la valutazione del voto... Anche gli stessi Roma, Torino... Poi dovremmo fare lo stesso discorso a Torino, dovremmo fare lo stesso discorso a Roma dove i 5 Stelle sono usciti con le ossa rotte, quindi forse perché hanno conosciuto la realtà diciamo delle amministrazioni dei 5 Stelle. Allora il problema è valutato nel suo insieme e io credo che non ci sia questa contestualizzazione fra quella che può essere... Ritiene che non sia uno sfratto... No, ma io credo che sia anche determinato dal fatto che quando tu sei gasato, cioè sei motivato perché anche un tuo rappresentante che può dare, come dire, un quid in più dal punto di vista proprio dell'impegno, io credo che cambierebbe e sarebbe cambiato anche lo scenario del voto politico, che non va, e ripeto, ritengo che non vada assolutamente confuso con quello che è il ruolo amministrativo, perché anche qui è chiaro che chi sta all'opposizione deve tendere sempre ad evidenziare quelle che sono le negatività di chi amministra, però tengo a precisare, al di là di quelle che sono oggi le situazioni generali che oggi interessano e attanagliano le amministrazioni, perché oggi tutte le amministrazioni comunali vivono una situazione veramente paradossale e lo sappiamo, non è un problema solo di Andia, ma un problema generale, perché se dobbiamo parlare della buca di Andia dobbiamo parlare della buca di Roma, per fare un esempio. Il problema è oggi come affrontare la gestione degli enti locali e in particolare dei comuni in una situazione di ristrettezze finanziarie che comunque determinano dei problemi, è evidente, ma sui cantieri voglio ribadire così al consigliere Guaratella, sui cantieri devo dire che in questi anni abbiamo attivato tanti cantieri, tanti sono stati completati, tanti si stanno completando e non credo che ci sia tutta questa situazione, ci sono certamente determinate delle lentezze, ma molto spesso sono state determinate anche da problemi legati agli iter tecnico-amministrativi sul discorso che è facile, ma giusto per dare una interpretazione più oggettiva al problema. Chiedo scusa, giusto per chiarire un po' come, ma velocemente perché poi devo lasciare la parola agli altri, il collegio dove si è candidato il ministro Minniti, sappiamo che il ministro Minniti ha fatto un bel lavoro da quando, e quindi aveva un candidato di Movimento 5, questo è l'indagato, sapevamo tutti, l'ha surclassato l'indagato al ministro Minniti, questo è un dato, come vuoi dire, logico, che non ha influenzato sul pensiero della gente il fatto che stesse uno indagato, direi dovremmo votare Minniti, un ministro che sull'immigrazione si è speso, che ha battuto le percentuali, uno più quotato, cioè proprio la gente andava diretta. Allora, non dobbiamo prendere nemmeno voto qualcuno, scusami, il indagato Caraccio non dobbiamo prendere nemmeno voto. No, Caraccio l'ha preso molto di meno delle sue potenzialità, glielo posso garantire, evidentemente non conosci il candidato Caraccio. Poi avrà modo di replicare anche a quello che diceva... Comunque c'è un vento nuovo, è chiaro che la gente vede anche nei riferimenti dei leader di riferimento, come dire, anche delle attrazioni che riguardano anche ai temi sensibili che oggi riguardano la popolazione. Volevo chiamare in causa Marco Di Vincenzo perché non avendo una lista di riferimento può aver dato un'occhiata più in generale a quel che è avvenuto alla sua coalizione di governo della città. Voi vi aspettavate un ridimensionamento del numero di voti così importante, complessivamente? Allora, io preferisco fare un percorso, siccome si parla di elezioni politiche, bisogna parlare del dato nazionale prima di tutti. È un dato nazionale che in linea generale ha visto quasi, giusto, un piccolo sfasamento tra centrodestra e centrosinistra, però una tripartizione del voto. Allora, prima di tutto bisogna considerare che non ci sono più centrodestra e centrosinistra perché è evidente che il Movimento 5 Stelle oggi occupi, se non una posizione ideologica, ma una posizione all'interno del quadro politico anche rilevante. E se dimentichiamo questo dato... Di centrodestra o di centrosinistra? Come la valuta? Il Movimento 5 Stelle è trasversale, nel senso che il Movimento 5 Stelle in questo momento sta recependo da un certo punto di vista, è vero il discorso del malcontento. Qualche ricetta, seppur non condivisibile però la data, la gente, il 32% degli italiani in qualche modo hanno premiato soprattutto sulla scorta di quello che è stato l'atteggiamento dei partiti, dei vecchi partiti centrodestra e centrosinistra, che è stato penalizzato in queste elezioni politiche. Perché non dobbiamo dimenticare che il voto al Movimento 5 Stelle e il voto alla Lega a livello nazionale, se lo prendiamo regione per regione, sommano all'incirca sempre e arrivano fino al 55-60% in tutte le regioni. Questo significa che non che si sia estremizzato il voto perché sbagliato, ma io lo faccio come esempio su me stesso, io non ho mai votato perché avendo 38 anni il mio primo voto è stato nel 98, io sono dell'80, quindi io non ho mai votato quello che una volta era il pentapartito, quindi si avevo centrodestra e centrosinistra. Nella forma mentis dei quarantenni di oggi e quindi a scendere fino ai diciotteni di oggi non c'è un discorso di centro, c'è un discorso di contrapposizione perché negli anni si è visto un centrodestra e un centrosinistra. Nel momento in cui io vado a mettere il voto, questi inciuci, mi permetto di fare dei nomi all'Alfano, alla Verdini, la gente ormai non li comprende più perché è un evidente modo di rimanere attaccati alla poltrona o comunque di andare a trovare i numeri per comporre quello, quello, quell'altro governo. In questo momento la gente dà un taglio e dice basta sti giochini, tant'è che il centro praticamente sparisce, sia nel centrodestra che nel centrosinistra, il centro sparisce e le ali, più che gli estremismi, acquistano voti. La Lega che ha un radicamento maggiore a nord, ha delle percentuali pazzesche in alcune regioni, il Movimento 5 Stelle, dico a un certo punto, tornando un attimo alla Puglia, viene premiato, e io faccio l'esempio della Puglia perché da un PD in grossa difficoltà, cioè il PD pugliese oggi ha preso una percentuale decisamente migliore rispetto al PD nazionale nonostante, io lo ammetto, un governatore che ha anche una sua presenza non indifferente. Se io vado a ripartire il voto in tre, così come è successo a livello nazionale, il centrodestra perde qualcosa ma si attesta più o meno su delle percentuali in linea, un centrosinistra al 15% ti porta un Movimento 5 Stelle al 50%, se il PD avesse preso una percentuale più alta, ovviamente diciamo... Quindi sta dicendo che il successo del Movimento 5 Stelle non è a danno del centrodestra ma in realtà... In proporzione sì, poi hanno rosicchiato voti anche al centrodestra, fatto questa premessa, il... mi permetto di dire perché i dati non sono mai coincisi, perché a un certo punto anche quando Giorgino è stato eletto col 58% alle politiche il centrodestra non ha mai preso il 58%, quindi diciamo il voto alle amministrative, ma lo facciamo... La vicente della personalità. Esatto, lo faccio io sul, diciamo, un esempio sulla mia pelle, una cosa è andare e dire domani mattina posso avere la tua fiducia e l'amico te la dà, però in questa fase era molto difficile dire alle persone puoi votare, ti ceca io voto a quel partito, purtroppo è così, non è inutile, da questo non ce ne usciamo. Quindi diciamo sono due dati non sovrapponibili. Quindi è ovvio che va presa comunque in considerazione, noi l'abbiamo presa a priori da un punto di vista meramente politico del fatto che Andrea non avesse comunque dei candidati andriesi e questo comunque è penalizzante per una coalizione che negli anni forse all'interno dell'intera regione è stata una delle più compatte e di quelle che ha dato diciamo più soddisfazioni al centrodestra. Comunque non vi sentite sotto attacco? Al momento no, nel senso che abbiamo avuto un mandato nel 2015, questo mandato finché abbiamo i numeri anche in Consiglio Comunale lo dobbiamo portare a termine e riteniamo di dover essere giudicati a fine mandato. Dopodiché le difficoltà diciamo che il Consigliere Coratella sottolineava, io concordo, sono difficoltà oggettive, non sono difficoltà soggettive o di scelte amministrative strampalate. Adesso le analizziamo, io però prima volevo fare una battuta ad entrambi, ma veramente prendetela come una battuta. A livello nazionale in queste ore si sta discutendo di una potesi di accordo, Movimento 5 Stelle, Lega, per formare il nuovo governo. Mi sa che vi ritrovate nella stessa squadra Benedetto Miscioscia e Michele Coratella? Siete disponibili? Michele Coratella. Ma io non so cosa potrà accadere a livello nazionale perché chiaramente non lo sappiamo. Ma trovarsi in squadra? Ma diciamo che contano gli uomini più che le presunte idee. Io credo che alla fine, il dato è significativo nel senso che comunque ci deve stare una sorta di dialogo in questo momento perché se si deve trovare una quadra si parte innanzitutto dall'individuazione delle figure apicali che sono la seconda o la terza carica dello Stato. Credo che le principali forze politiche che in questo momento rappresentano un po' il voto o perlomeno la volontà degli elettori è quella di cominciare a capire se c'è una possibilità di dialogo almeno partendo da questa base. È chiaro che poi il resto è demandato a quelle che poi saranno le valutazioni complessive perché in questo momento si deve dialogare anche con il PD. Se si deve fare un ragionamento di logica è chiaro che se poi viene meno l'unica soluzione che rimane a questa situazione di stallo è solo il ritorno alle urne e magari una soluzione potrebbe essere anche quella in questo momento di capire se l'attuale legge elettorale sia comunque compatibile o nel caso da rivedere. Alla fine poi contano, al di là di quelle che possono essere le interpretazioni su dei punti che interessa la gente, quelle che poi sono le valutazioni degli uomini chiaramente. Naturalmente, esaurita questa prima fase della trasmissione dedicata all'analisi del voto a livello territoriale, vorrei ritornare sui problemi di Andria perché Michele Coratella prima sottolineava un aspetto importante. Mentre Andria ha tanti problemi da risolvere che sono sotto gli occhi di tutti, è inutile starli anche a denunciarli, la maggioranza però sta discutendo della revoca del Presidente del Consiglio Comunale, riunione di capigruppo, richiesta di revoca già firmata, con il problema dell'inserimento dell'esame in Consiglio Comunale del bilancio, senza l'approvazione del quale si andrebbe verso il commissariamento con elezioni fissabili alla prossima primavera, non questa del 2018 ma nel 2019, quindi un anno di commissariamento. E' questo lo scenario? Michele Coratella. Allora, volevo dire questo, da quello che ho sentito emerge ancora la non comprensione di quello che è stato il voto, a mio modesto avviso, perché ancora stiamo parlando di attacchi al Movimento 5 Stelle e non c'è nessuna consapevolezza che il risultato del Movimento 5 Stelle è anche frutto della incapacità, dico io, di chi ci ha governati a Roma e di chi ci sta amministrando ad Andri. Quindi bisognerebbe innanzitutto prendere coscienza di questo. La dimostrazione è che ancora stiamo parlando di questo, della politica autoreferenziale. Stamattina c'è stata inviata una PEC in cui tutti i capigruppo della maggioranza chiedono la revoca del provvedimento di convocazione del Consiglio Comunale. Cioè siamo ancora, ieri c'è stata, lei sa, una capigruppo, esatto, in cui è stata fissata la data del Consiglio Comunale. Quando parla di capigruppo significa una conferenza dei capigruppo, dei partiti e dei movimenti presenti in Consiglio Comunale che dovrebbero decidere l'ordine del giorno del Consiglio Comunale. Al termine di questa seduta è stato deciso una riunione del Consiglio Comunale da effettuarsi il 21 di marzo. All'interno di questa ci sarebbero 3-4 provvedimenti di amministrazione corrente e tra cui però c'è la revoca del Presidente del Consiglio Comunale. Voglio ricordare che quel provvedimento, quella proposta di delibera che è la revoca della Presidente del Consiglio Comunale, è stata depositata in campagna elettorale dalla maggioranza. Quindi allora si aveva fretta di portare in Consiglio Comunale quel provvedimento che ricordo, cioè è evidente, non interessa i cittadini, non c'entra nulla con i problemi di Andrea, ma è un problema della maggioranza. Però stiamo perdendo tempo su questa cosa, non c'è ancora il Consiglio Comunale, ora l'abbiamo fissato per il 21, salvo sorprese. Quanto a quello che si diceva prima, il voto al Movimento numericamente è stato così abbondante, vorrei fare una piccola precisazione perché c'è stata una dichiarazione poi smentita e contro smentita tra Vitali che è il coordinatore regionale di Forza Italia e Marmo, cioè voglio dire il candidato andriese del centro-destra non sono stati loro in grado di tirarlo fuori. Mi piace ricordare la battuta di Vitali che dice se candidavamo il padre di Giorgino, volevano candidare, il Movimento avrebbe preso il 68%, ma è vero, è vero questo. Quindi sono loro che non sono stati in grado di tirare fuori un rappresentante andriese. Stessa cosa per il PD. Il PD evidentemente non sono considerati loro a livello di segreterie regionali, questo è per tornare, io purtroppo sono schematico... Si è tolto questo sassolino, però doveva togliersene un altro, la risposta a... Allora il dato, sì sì sì, il dato ha detto che anche se fosse candidata a sua figlia di sette anni avrebbe preso 29 milioni. No, anche perché ha detto che D'Ambrosio non ha fatto nulla per questo territorio. Ah no, pensavo al dato numerico. Allora innanzitutto il dato numerico di Andrea, se dobbiamo vedere i numeri, è maggiore rispetto agli altri comuni della, diciamo, della BAT. Quindi evidentemente c'è stato un lavoro su Andrea che io rivendico anche del gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle, perché se no non avremmo fatto il 52 ad Andrea e il 48, il 45 in altri comuni. Quindi questo è evidentissimo. Voglio ricordare giusto qualcosina che ha fatto D'Ambrosio, stando all'opposizione perché il governo a Roma era del PD con tutti gli altri, non era del Movimento 5 Stelle. Allora, la prima cosa che rivendica sempre, che rivendichiamo sempre, è il mantenimento dei fondi per la questura di Andrea, i cui lavori sono iniziati, speriamo, però devono, come dire, devono essere rendi contati. Posso testimoniare che ieri sera abbiamo fatto delle riprese all'interno della struttura e c'erano gli operai che lavoravano. Sì sì sì, ok. C'è stato un problema diciamo che bisognerebbe sapere che quella questura, allora consideri che lì la gara con l'apertura, la gara fu fatta nel 2013. Certo, i lavori dovevano essere completati al 31 dicembre 2017. Perfetto. I soldi sono stati mantenuti grazie anche all'intervento di D'Ambrosio e di nessun altro, perché non ci sono altri parlamentari di riferimento andriesi interessati a sta cosa e quindi questo è, credo, un grosso obiettivo. Quando poi leggiamo che il direttore generale della ASL lamenta un problema di sicurezza per i dipendenti della ASL nel quartiere Fornaci. In realtà il problema di sicurezza riguarda tutta Andrea, ma Giorgino non se ne è accorto e non ha fatto nulla assolutamente per agevolare e accelerare quei lavori. Oltre a questo, per ricordare cos'altro è stato fatto, è stata sequestrata la discarica di Trani. Lì c'è stato Giuseppe D'Ambrosio che è intervenuto. Lì parliamo di tutela della salute. Ci sono 47, credo, rinviati a giudizio per disastro ambientale. Per la verità, però, le devo dire una cosa. Per la verità, quando D'Ambrosio, accompagnato da una delegazione del Movimento 5 Stelle, fece ispezione all'interno della discarica, il comunicato del giorno dopo è quanto è bella la discarica, per fortuna la discarica è tenuta bene. A distanza di un mese, poi ci fu il sequestro da parte. Ma l'attenzione su quella discarica l'abbiamo portata noi. Però la chiusura è stata il frutto di un'altra questione. Esatto. Ma voglio dire, tutta l'attenzione al tema ambientale l'ha portata il gruppo di Trani del Movimento 5 Stelle con Giuseppe D'Ambrosio, perché altrimenti il sindaco Bottaro si faceva la biciclettata. Insieme a Trani a capo, l'altro movimento che si era creato. Sì, un movimento civico. La biciclettata la faceva il sindaco Bottaro a dire com'è bella la discarica e funziona tutto ed è tutto a posto. Questa è un'altra delle cose fatte. La stessa attenzione è stata posta per la discarica di Andrea, dove ad oggi non sappiamo niente, è tutto fermo. La Daneko sappiamo in concordato preventivo e quindi serviranno ulteriori soldi al Comune di Andrea, perché la proprietà della discarica è del Comune di Andrea per le opere di bonifica che non sono iniziate. Giusto per un'ultima cosa, siccome si è fatto cenno agli altri comuni, allora il Movimento 5 Stelle, cioè qui gli altri devono elaborare il lutto. Le persone ci votano perché facciamo le cose, facciamo i fatti, facciamo quello che diciamo. Questa è la verità. Voglio fare un esempio banalissimo, non banale, un esempio importante. A Canosa, stamattina uscirà un video su questa cosa che ho fatto con il capogruppo Massimo Lovino di Canosa. Allora, non so se lei ha avuto modo di vedere, dottor Rossi, c'è stata la classifica del Sole 24 Ore riguardo la Tari, dove si dice che Andrea è ai primi posti, è la terza praticamente in Italia tra i capoluoghi di provincia per aumenti in alcune attività della Tari, per alcune categorie commerciali, tra cui mi viene in mente i supermercati con un aumento del 45%. Allora, il Movimento 5 Stelle che amministra da dieci mesi Canosa, quest'anno è riuscita per la prima volta, forse nella storia, ad applicare una riduzione della Tari del 5%, pochissimo, ma è una riduzione della Tari. No, voglio ricordarvi che l'appalto è lo stesso, cioè sempre con Sangalli il loro lavoro, non è che c'è un altro gestore dell'appalto, è sempre la Sangalli. Quindi alla fine, questa è chiaro, è evidente, se vuoi fare le cose, e la gente ha premiato questo, la capacità di fare le cose e di risolvere i problemi dei cittadini, non di parlare del Presidente del Consiglio Comunale o degli assessori. Ecco, ma a questo proposito, il Partito Democratico, quando vede che il prossimo Consiglio, dopo mesi che non si tiene un Consiglio Comunale, debba presentare soltanto 3-4 provvedimenti, più la revoca del Consiglio Comunale, del Presidente del Consiglio Comunale, che cosa pensa? No, io ieri ero presente perché il Professor Fortunato, non potendo partecipare, mi ha delegato. E quindi all'interno della conferenza dei capigruppo, io feci un intervento, dopo aver sentito naturalmente gli altri esponenti dei Cinque Stelle, del Centrodestra, sollecitando e soprattutto richiamando all'attenzione tutti quanti sul fatto che la presenza tra i quattro argomenti della mozione di revoca del Presidente del Consiglio non può essere in qualche modo equiparata agli altri argomenti, con tutto rispetto. Perché un'attenzione politica inevitabilmente si trasmette poi sulle decisioni che si vanno a prendere per quanto riguarda un'attenta analisi del bilancio, su quanto riguarda l'approvazione delle tariffe, delle addizionali comunali, eccetera, eccetera. Perché si potrebbero creare degli squilibri a seguito, oppure si potrebbe generare un ricompattamento della maggioranza e quindi nuovi stimoli a fare bene per la comunità. Per cui avevo invitato tutti quanti a non inserire tra gli ordini del giorno tutti gli argomenti, compreso questo della mozione di revoca. E quindi avevo invitato a fare il Consiglio Comunale del 21 marzo, dove si parlerà, mi auguro, della mozione di revoca del Presidente del Consiglio insieme alle interpellanze della comunità e poi successivamente affrontare le questioni. Molto probabilmente ho capito che la maggioranza, essendoci degli argomenti interessanti, quindi bilancio, dove tutti devono essere presenti, compatte, allineati, nessuno deve discutere sulle questioni, bisogna votare in due minuti e basta, perché so già così andrà a finire. Ci sono tutti, tutti voteranno la mozione di sfiducia e in realtà non è questa la soluzione migliore. Ritornando alle questioni, secondo me, quindi andrebbero scisse gli argomenti, se queste sono le ragioni per cui io dovrei votare D'Ambrosio come parlamentare di riferimento, non lo voto perché questi che lui mi ha detto sono quelli che dovevano fare il gruppo che sono presenti sul cittadino, l'onorevole deve fare un'altra storia. Non parliamo adesso delle elezioni perché non mi ha dato la giustificazione. Ora, per carità di Dio, io rispetto. Ritornando all'argomento del Partito Democratico, quindi è chiaro che i consigli comunali che ci stanno aspettando sono consigli comunali importanti e non possiamo da dicembre non fare consigli comunali, commissioni parlamentari, commissioni consigliari. Cioè, è chiaro che denotano tanta difficoltà all'interno della maggioranza, pure dal punto di vista operativo. Ora, da dire questo, a dire a Giorgino dimettiti, io penso che ci sia un abisso tra una cosa e l'altra, anche perché Giorgino mostra un po', non perché voglia fare la sua parte, però bisogna essere obiettivo, mostra un po' anche la capacità di autocontrollo. Quindi, finché dura l'autocontrollo, ben venga. Ritornando agli argomenti del Consiglio Comunale, è chiaro che ci aspetta una questione importante, l'Atari, ma noi lo sapevamo che Andri aveva le... era il Micioscia che diceva che era tutto in regola, la questione. L'ha sempre detto, è stato un cavallo suo di battaglia. Quindi la colpa è sua. Oggi ha avuto, a seguito di una sentenza della Commissione Tributaria, che ha detto praticamente che, indipendentemente da quelli che è la legge quadro nazionale, resta al comune la facoltà di attribuire alle aziende delle tariffe vantaggiose che non abbiano poi ripercussioni, io l'ho messo anche sul mio profilo, diciamo, di Facebook, per fargli capire che in realtà l'ascelerata scelta di applicare delle tariffe alte dipende solo ed esclusivamente dall'amministrazione l'impactore. In carica. In carica, chiedo scusa. Prego. Di là poi delle questioni che riguardano l'aspetto più specifico delle vicende che oggi interessano la maggioranza sul posizionamento di quelle che sono le figure all'interno della maggioranza. Il dato oggettivo è un altro. Cioè, se noi dovessimo fare un'analisi di quella che è la situazione complessiva delle amministrazioni, è chiaro che le amministrazioni, tutte, e lo dico e lo confermo, hanno le loro negatività, ma non solo quelle di Andia, ma in generale. Il problema è capire quanto si fa e quanto impegno c'è per cercare di portare avanti oggi quelle che sono le questioni finanziarie dei comuni, per mantenere in equilibrio i bilanci, quelli che sono i servizi che dovremmo garantire e quindi avere anche la disponibilità finanziaria. E la disponibilità finanziaria oggi non è che la puoi avere più come una volta dallo Stato. Prima lo Stato ti trasferiva una certa quantità di denaro che da qualche anno a questa parte si è notevolmente ridotta. Le amministrazioni devono fare i conti con quelle che sono le risorse proprie e anche qui, nonostante tutto, io tengo sempre a precisare che comunque ad Andia, a livello di imposizione tributaria, non è che noi siamo messi peggio di altri. In alcuni casi noi siamo messi in una posizione più utile, perché se dovessimo valutare quello che è l'incidenza dell'applicazione dell'addizionale IRPEF ad Andia o quello che è l'applicazione della TASI o dell'IMU, basta fare due conti, fare il paragone fare il paragone con gli altri comuni è evidente, perché poi bisogna parlare con i dati e fare il paragone fra la TASI ad Andia del 2 per 1000 o quella di Barletta del 2 al 7 per 1000 o l'IMU allo 0,86 ad Andia o l'1,06 in qualche altro comune. Cioè il problema non è quello, il problema è capire cosa devi fare per mantenere oggi in equilibrio tagliando tutto quello che c'è da tagliare, che credo che sia oggi il vero dato. Oggi le amministrazioni devono fare i conti con i bilanci e purtroppo sono costrette a tagliare il più possibile proprio per arrivare a mantenere in equilibrio i propri conti. No, la blocco per il discorso dell'Atari. Io ho un dato che è un dato oggettivo, se noi paragoniamo quelle che sono le tariffe applicate da noi, con altri comuni anche vicino, io faccio vedere oggettivamente quando è il dato di incidenza dell'Atari sul comune di Andia e su altri comuni. Poi è chiaro che c'è la possibilità di poter rimodulare la tariffa, ma la rimodulazione dipende anche da quelle che sono le capacità di aumentare o diminuire la quantità dei rifiuti di differenza, perché il costo del servizio è quello. Quello che incide molto sulla determinazione della tariffa è anche quelli che sono i costi che implicano lo smaltimento dei rifiuti. E quindi il fatto anche oggettivo è che nel momento in cui non hai la disponibilità anche di discarico o di siti che possono essere in loco, sei costretto a fare i viaggi della speranza che comportano oneri notevoli. Per quello che mi risulta, anche quest'anno, non dovremmo avere grossi problemi per la questione Tari ad Andia, per quello che mi risulta. Allora io vorrei cambiare per un attimo argomento, perché l'ho accennato prima Michele Coratella. Nei giorni scorsi il direttore generale dell'ASL, dell'ABAT, ha fatto un sopralluogo a Trani in una struttura che non si sa bene se sia di proprietà dell'ASL o se sia del comune di Trani, ma a prescindere da questo, per studiare così la situazione. Cosa ha detto il direttore generale dell'ASL? Attenzione che noi non è che stiamo facendo dei sopralluoghi specifici perché vogliamo per forza cambiare sede, ma se ci fosse l'opportunità lo faremmo volentieri perché in quell'area dove c'è attualmente, quindi nella zona delle Fornaci, ad Andria ci troviamo con un problema di sicurezza. Il sindaco di Andria ha risposto a fake news, in realtà non si tratta di fake news perché è una dichiarazione del direttore generale dell'ASL riportata dalla stampa. Il problema che sottopongo qui non è se va via o non va via, diciamo non cambia assolutamente niente a livello generale. La direzione generale può stare dove vuole, non mi interessa, cambia sostanzialmente per un fatto campanilistico. A me la cosa che interessa in questa trasmissione è, ma voi come vi sentite sapendo che c'è un intero quartiere che secondo il direttore generale, quindi non un passante, ma una carica istituzionale che presiede la più grossa azienda pubblica presente sul territorio, dice io dico, ah me ne vorrei andare perché lì non è sicuro. Lo dice oggi delle donne, non l'hanno detto gli altri. E non l'hanno detto gli altri. Ecco, ma poi come... Il problema è vero, è un altro. Qual è la... Che ci siano delle necessità, il direttore generale può benissimo confrontarsi con l'amministrazione di riferimento, nessuno impedisce di potersi confrontare. Poi io dico sempre, cioè al di là di quello che può essere l'immagine, o perlomeno l'interpretazione del sentirsi sicuri, cioè il dato oggettivo che oggi tutti credo abbiano la necessità di sentirsi sicuri. C'è una valutazione di merito per vedere se ci sono le opportunità di incrementare un'eventuale attenzione su un determinato presidio, quindi in un determinato territorio rispetto ad altri. Ma l'abbiamo detto anche in funzione di quella che può essere la capacità di potenziare gli organici in una città come Andria. Ma secondo voi... Perché noi abbiamo due problemi. Secondo voi a Montingelli... La realizzazione della questura che sta andando avanti, nonostante tutti i problemi che sono sorti, perché poi io capisco che l'opposizione debba far emergere quelle che sono le limitazioni nelle procedure in alcuni lavori, ma si deve guardare anche al dato oggettivo. Perché si determina? Perché nel frattempo magari è cambiata l'organizzazione anche visiva o perlomeno progettuale del sito rispetto a quello che doveva avvenire prima e quindi la rimodulazione anche tecnica dell'opera e questo ha comportato tutta una serie di problemi che non sono certamente dipesi dall'amministrazione, ma dalle valutazioni tecnico-burocratiche che hanno portato a delle lungaggini che si sono per fortuna concluse e che adesso praticamente i lavori stanno procedendo, come in altre situazioni, come la realizzazione della caserma dei Carabinieri. Cioè il problema è capire se c'è la possibilità di potenziare il numero degli operatori di polizia all'interno di una città. Ho capito, ma voi ritenete che l'azienda delle fornaci ci sia un problema di sicurezza? Ma io credo che a questo punto devo dire che tutti i quartieri hanno un problema di sicurezza, non credo che sia un problema solamente legato al quartiere fornaci. Qual è la valutazione di... A me è sembrata strana quel tipo di dichiarazione, non so se sia una fake news, ma la do per buona per quello che ci stiamo dicendo adesso. Per un semplice motivo, i dati oggettivi di una dichiarazione del genere, io voglio capire se il direttore generale li ha e da dove li ha recepiti o se è una sensazione personale. Perché noi abbiamo avuto pure conferenze di capigruppo con il vecchio Conar Racci, non c'è mai stato posto un problema di sicurezza alla zona fornaci. Quindi bisogna capire innanzitutto perché delle donne, se poi c'è, non voglio pensare, non voglio credere, un retropensiero per cui da un punto di vista di rimodulazione di sedi, Trani deve essere premiata per un qualcosa e allora che si dica in maniera esplicita ma che la zona fornaci abbia oggi un problema di sicurezza che ieri non c'era, a noi diciamo non, e comunque ne avrebbe potuto parlare sia con gli organi di polizia sia con l'amministrazione. Non l'ha fatto, l'ha fatto in televisione, secondo me quantomeno è discutibile il metodo. Poi per il resto. Su questo invece? Sì, no, giusto per chiarire, ma scusate se ripeto lo stesso concetto, cioè il problema è dove portiamo la direzione della ASL e non l'ospedale di Andrea che ha il sesto piano chiuso, il terzo parzialmente chiuso, i reparti che vanno via e ancora la politica che pensa a se stessa. Allora a questo punto voglio dire, come diceva qualcuno, si estingueranno i partiti perché la gente lo ha capito, la gente non vuole sentire queste cose, la gente non vuole la giustificazione che dà mi scioscia, la burocrazia, i tempi, a me non interessa, io dovevo avere la questura è che c'è la pacchetta magica, scusami, non l'ho avuta, questo interessa a me, quindi tu non sei bravo ad amministrare, questo è quello che la gente vede, è quello che la gente ha votato, perché sono stanchi di questi discorsi, perché questi discorsi non portano a nulla, è un parlarsi addosso, è la politica che parla della politica, basta, senza soluzioni. Non è un caso che io ho puntato non sul fatto che si sposta ad Andria a Trani, ma puntiamo sulla questione sicurezza, per la vostra esperienza c'è un problema sicurezza? Allora, dottor Rossi, che ad Andria ci sia un problema sicurezza in generale è evidente, tant'è che deve venire la nuova questione, che c'entra solo ad Andria? No, dico solo ad Andria. Noi viviamo ad Andria e io parlo di Andria, non mi interessa parlare degli altri, poi voglio dire che esistono zone migliori e peggiori come in tutto il mondo, che c'entra? Io vivo ad Andria, il problema è che ad Andria avremmo già dovuto avere una questura che avrebbe portato 150 nuove forze di polizia, avremmo risolto il problema della sicurezza ad Andria? Non lo so, certamente lo avremmo attenuato, questo è chiaro ed evidente. E si è parlato della caserma dei Carabinieri, quel procedimento della caserma dei Carabinieri è ancora bloccato, perché lì ci sono stati dei problemi. E poi avete votato contro il Consiglio Comunale sulla soluzione della caserma dei Carabinieri, avete votato contro, scusami, avete votato contro, un problema evidente che avevamo e abbiamo nella città di Andria. Non dire cose, scusami, ma è giusto per dirti, tu parli di caserma dei Carabinieri. Ha fatto il chiarimento. Allora, noi abbiamo votato contro il metodo, il metodo è stato un progetto di finanza che non ha avuto evidenza pubblica, noi avevamo chiesto l'evidenza pubblica, non no alla caserma dei Carabinieri, ma no a un progetto di finanza fatta non all'evidenza pubblica. Però loro dicono, no, è un problema dell'arma dei Carabinieri, non confondiamo le cose. La maggioranza però dice un'altra cosa, dice, è vero, potevate anche aver ragione nel merito, ma è essenziale, anche sull'ospedale dicono, perché l'aria che è stata individuata non è stata individuata. Sto cercando di chiarire, il problema è che se voi votate contro, attenzione, se voi votate contro, poi non potete dire, ma non si è fatta. No, 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 io non ho detto che non si è fatta, io sto dicendo che abbiamo avuto ragione. No, è stata bloccata quella procedura, è stata bloccata perché l'ufficio delle dogane non ha rilasciato in nulla osta, perché non c'è stata evidenza, abbiamo avuto ragione. No, non è che avete avuto ragione, è un altro aspetto che non dipende dalla volontà dell'amministrazione. Il problema della sicurezza è talmente attuale, c'è stata ancora un'altra, come dire, mancanza da parte loro, avevano individuato l'ex tribunale, diciamo, di Andria per portare gli uffici dalla Guardia di Finanza. Che vanno a via Bari. Certo, se ne sono accorti dopo tre anni che lì non potevano stare e ora li portano su via Bari. Che vanno a via Bari. E, come dire, l'immagine di un'amministrazione a Ruffona, che non sa nemmeno, anche cosa deve fare. No, la soluzione è stata data, è diverso. Poi c'è la stessa cosa, scusatemi, è la stessa cosa sull'individuazione dell'area del nuovo ospedale. Loro addirittura hanno abbandonato l'aula dicendo che non condividevano il metodo per la quale si era individuato l'estate. Cioè, cambiamo l'ospedale. Quando c'erano, come dire, delle situazioni oggettive che non dipendono dalla volontà espressa dell'amministrazione, perché individuare un'area di 19 ettari con 65 proprietari non è una cosa... cioè, non stiamo parlando di un'area che fa riferimento ad un singolo proprietario, stiamo riferendo... e soprattutto all'oggettività di dare un'area che avesse una valenza di rapido raggiungimento, linee direttive che non sono state espressamente datate da noi, ma dalla Regione. Quindi anche qui loro devono fare, come dire, mia colpa, perché se da un lato devono dire l'ospedale su quale possiamo essere tutti d'accordo, dall'altro poi devono dire perché non hanno votato quel provvedimento, che era un provvedimento che non era una volontà espressa della maggioranza, è un provvedimento che riguarda la città di Andia. Questo deve dire il consigliere Coratelli. Ed è presente e lo dice. Allora, chiariamo questa cosa dell'ospedale. Noi non siamo contrari alla costruzione del nuovo ospedale, abbiamo anche qui, perché poi sarà la storia che si ripeterà, perché anche qui avranno un diniego poi dagli uffici competenti per l'individuazione di quell'area. Noi non eravamo contrari al nuovo ospedale, se mai si farà, ma tengo a precisare, non è stato messo da parte, non c'è neanche un euro al momento per il nuovo ospedale, quindi parliamo di fantasia. Abbiamo detto nell'intanto che la fantasia si può anche realizzare, sistemiamo e rendiamo efficiente l'ospedale che abbiamo già, perché i reparti stanno andando via. Ci sarà il paradosso, fra X anni, quando si realizzerà, che avremo una struttura dove non potremo portare nessun reparto, perché l'ospedale di Andria non avrà più i reparti. Quindi che senso ha? Spendiamo soldi così, inutilmente? Questo è stato il senso. Invece sulla questione di sicurezza. Ma io come amministratore mi sono sentito offeso, perché anche per me, io anzi sto cercando di trovarlo, di andare a trovarlo, diciamo come segretario del Partito Democratico, anche per capire meglio, come diceva benissimo Marco Di Vincenzo, le cause che hanno portato questa, perché molto spesso si esce sulla stampa in maniera generica, questa maniera generica crea confusione nell'opinione pubblica, invece io penso che sarebbe stato meglio spiegare e dire, guardate, sulla base di determinati dati, che Andria oggi è anche un problema di amministrazione secondo me, perché la gente si sente insicura nella nostra città, purtroppo devo dirlo, e quindi non c'è un, ci sono state delle amministrazioni precedenti che hanno fatto capire che la questione sicurezza all'interno di una comunità è fondamentale, oggi la popolazione, caro Micioscia, non è che vuole tanto, vuole vivere sicuramente, avere un piccolo stipendio dignitoso per portare avanti la giornata, non è che vuole vedere grandi cose dai politici, ma almeno gli garantiamo quelle piccole cose, tipo la sicurezza sociale, ora sentirsi dire da una carica così importante che quel luogo è insicuro, io devo prenderle per buono, io so cos'è il quartiere, però al tempo stesso come amministratore... Peccato che l'abbia fatto dopo due mesi che si insegnava... No, no, io ho detto che sono d'accordo, è stata lucidissima, guarda, Marco ha detto esattamente il mio pensiero, cioè quando abbiamo avuto degli incontri con i precedenti direttori, nessuno ha messo mai in discussione la questione di sicurezza, oggi che si è venuta fuori una cosa così campatinaria, ci fa pensare a tante cose, questo è un discorso, poi per come ragionano i 5 Stelle, perché io molte volte detesto? Non nel significato, perché hanno sempre ragione loro, perché quando tu ti metti davanti a chi lavora e chi sta a guardare la finestra, ha sempre ragione chi sta a guardare la finestra, e questo è uno del motivo per cui loro devono andare a governare, perché noi vogliamo... Ecco il Partito, perché il Partito Democratico a livello nazionale ha detto noi non vogliamo andare, ma perché il popolo ha detto andate all'opposizione, dobbiamo ritornare a essere umili come politici del Partito Democratico, perché secondo me siamo stati fin troppo presuntuosi, ma devono confrontarsi con la realtà e devono capire che non è che si svegliano la mattina e vogliono all'ospedale di Andria, il sesto piano aperto e sarà subito fatto, pronto, subito tutti quanti lì, no, incontreranno la questione burocratica, che non saranno loro a determinarlo, ma saranno altre questioni, e quindi si incontreranno anche chi sta gestendo i posti letto, dovranno incontrare, altrimenti sta palla del 5 Stelle continuerà a crescere, quindi devono solo poter scendere da quel livello dove ora stanno, e comunque il tempo darà ragione a tutti, può essere un auspicio, siamo purtroppo arrivati a... Io li auguro di diventare amministratori, sinceramente, con molta franchezza. Bene, siamo arrivati in chiusura di questo spazio, ci sarebbero tanti, tantissimi altri argomenti da affrontare, ma per questioni di tempo dovremo rimandarlo alle prossime settimane, ovviamente torneremo ad incontrarci per affrontare i tanti problemi che quotidianamente le amministrazioni comunali, maggioranze e opposizioni sono costrette ad affrontare. Io ringrazio Benedetto Miscioscia, in rappresentanza di noi con Salvini, la Lega, di Andria, Marco Di Vincenzo, consigliere comunale di Catuma 2015, Michele Quaratella, capogruppo del Movimento 5 Stelle, Giovanni Burchio, segretario politico e consigliere comunale del Partito Democratico di Andria. L'appuntamento per tutti e, come sempre, la prossima settimana, stessa ora, stessa rete. Buonasera. Buonasera.